Il Rolex GMT Master. Molto di più di un semplice orologio per piloti. L'orologio da polso Rolex GMT Master è una sublime opera d'arte meccanica che fonde con maestria l'eleganza senza tempo con funzionalità avanzate. Dotato di una ghiera girevole e della quarta sfera, nota come lancetta GMT, questo straordinario segnatempo offre la possibilità di visualizzare simultaneamente due fusi orari diversi, conferendo una versatilità unica a chi lo indossa. Il GMT Master ha fatto il suo debutto ufficiale nel 1954, frutto di una collaborazione tra Rolex e la famosa compagnia aerea Pan American World Airways, Pana M. Questo eccezionale modello è stato uno dei primi orologi da polso ad essere dotato della complicazione GMT, una funzione sviluppata sulla base del tempo del meridiano di Greenwich, il sistema di riferimento utilizzato per suddividere il mondo in 24 fusi orari. Uno dei tratti distintivi più iconici del GMT Master è la sua lunetta girevole bidirezionale, graduata 24 ore, caratterizzata dalla vivace combinazione di colori rosso e blu. Queste sfumature hanno portato gli appassionati di orologi a soprannominarlo affettuosamente Pepsi, in onore della celebre bevanda gassata. Questo accattivante dettaglio di design ha catturato l'immaginazione dei collezionisti di tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, il GMT Master è stato progettato per i piloti di linea, che hanno richiesto una soluzione per tenere traccia dell'orario in due continenti diversi. La Pana M chiese addirittura a Rolex di produrre una versione con quadrante bianco limitata per i suoi piloti, per distinguerla dal modello comune con quadrante nero. Movimenti meccanici di precisione e miglioramenti tecnologici costanti hanno contribuito a mantenere la sua posizione di rilievo nel mondo dell'orologeria di lusso. Nel 1982, Rolex introdusse una versione con il calibro indipendente, semplificando notevolmente la regolazione del secondo fuso orario e dando vita al GMT Master 2. Possedere un GMT Master non è solo un modo per controllare il tempo, ma anche per abbracciare uno stile di vita avventuroso e raffinato, e per portare con sé un pezzo di storia e innovazione orologera.